Ciao, benvenuti a domenica, oggi stiamo andando alla sale di Joe's Jeans, Joe's Jeans è un marchio americano di jeans, ovviamente come dice il nome, sennò si chiamerebbe Joe's maglietta o Joe's cappellino, invece si chiama Joe's Jeans. Stiamo andando, questa e-commerce che è una zona di magazzini, ci sono varie aziende che fanno tutte quasi denim, abbigliamento eccetera, siamo usciti dall'autostrada, è domenica, non c'è tanto traffico, ci abbiamo messo poco, 20 minuti, adesso stiamo arrivando al posto, vedete, tipica via americana con alberi e bandiere americane, poca gente, davvero poca gente in giro, siamo felicissimi, adesso insomma non sappiamo quanta gente ci sarà a questa sale, ma speriamo che non ci sia troppo casino perché vogliamo prendere qualcosa di carino. Ecco, è qua dove ci sono i palloncini, vedete, stiamo arrivando, sample sale, i sample sono i prodotti che vengono usati per far vedere ai buyers la nuova collezione, quindi è tutta roba nuova, vedete la gente con pacchie e pacchini di cose, adesso parcheggiamo, entriamo e ci rivediamo dentro. Siamo entrati alla sale, qua siamo dove ci sono le scarpe, come vedete, ci sono tutte delle, cosa sono, degli scaffali con le taglie, insomma, e questa è la sale. di là nell'altra stanza c'è la roba da donna, i vestiti e nell'altra ancora ci sono i vestiti da uomo, fa un caldo bestia, quindi ci sono questi mega ventilatori che raffreddano l'ambiente, diciamo, ci provano e vi porto di là. Certo, c'è la strumentazione dei piccili di cucina di cucinaOSISO. lui26, come si робbo con le ghi pos potere uscito? si trobera uscito è utile quanti tutti tutti i nuni non totalmente legati chat. Ora questi sono i prezzi, vedete, ci sono i pantaloni 35, magliette 10, magliette maniche corte 15 e le scarpe tutte a 20 dollari, quindi è tutta roba assolutamente convenientissima rispetto al negozio, un jeans sarà 150 dollari, il negozio qua è 35, quindi un quarto del prezzo insomma. Questa Alexandra che sta cercando un paio di jeans, questi sono i jeans da donna, vedete che sono di tutti i tipi e tutti i colori, sembra che abbia trovato, sembra che abbia trovato un jeans che gli piace. Siamo appena arrivati alla fiera di Ossi, abbiamo parcheggiato questo, questo è il parcheggio e adesso ci avviciniamo. Eccoci, allora, abbiamo deciso di passare la domenica alla fiera di Ossi. La fiera di Ossi è una specie di fiera, ci sono le giostre, c'è da mangiare, c'è animaletti, tipo i cavalli, i maialini, i coniglietti, insomma è una fiera. Adesso entriamo e ve la facciamo vedere. È molto bello perché fanno anche dei concerti durante l'estate, c'è per esempio, adesso vi faccio vedere il cartellone un attimo a che mi avvicino. Allora ci sono, per esempio ci sono gli Osspring, qui, Waness, insomma ci sono un po' di artisti che faranno poi dei concerti, non oggi, perché oggi è domenica e pomeriggio, quindi c'è solo i maiali e i cavalli. Adesso entriamo. Allora questo è bellissimo, è una limo rosa con un cane rosa. Qua non siamo ancora entrati dentro la fiera. Sì, sì, arrivo, bisogna lasciare la mancia, qui quando fai foto o video, ha cose strane, quindi adesso vediamo la mancia. Allora siamo entrati, è bello, è una figata pazzesca, c'è un sacco di gente, sembra una fiera, insomma ci sono le giostre, c'è un tipo che fa la scultura con la sabbia, adesso ve lo faccio vedere. Ecco, questi stanno facendo un'enorme scultura di sabbia, ci metteranno probabilmente settimane a finire, però sembra che stia venendo bene. E adesso noi ci dirigeremo lì a mangiare, ovviamente. Ecco, questo è quello che adesso ci mangeremo. questi vendono salamini e pickles. Eccoli qua. i pickles sono i sottacete, sono enormi. sto provando la sedia massaggiante, è una sedia che ti massaggia tutto, anche la mano. è una figata, ti massaggia anche la pianta dei piedi, ti massaggia tutto, anche delle parti che non dovrebbe massaggiare normalmente. È super figa, è tecnologica, la musica, tutto quanto. E vi faccio vedere come massaggia i piedi. È incredibile sta cosa. Se l'avesse a casa credo smetterei di fare qualsiasi cosa, qualsiasi attività. Passerei credo 20 ore al giorno su questa sedia. Quindi probabilmente è meglio che non la condividi. Adesso passiamo a cose serie. La venditrice di pentole, coltelli e affettatrici. c'è un sacco di gente che guarda sta roba. Ci saranno 40 persone. Sono quasi convinto di prendere una pentola. Adesso vi faccio vedere una panoramica della fiera. E qua è dove suonano dal vivo. Questo è il palco dei concerti. Questo è un barbecue gigante. a mesi. Adesso vi portiamo... mamma che puzza, mamma mia. Vabbè, merda di mucca, ci credo che puzza. Adesso vi portiamo al concorso di Miss Mucca. Ecco qua. E stanno facendo Miss Mucca, vedete. Siamo a... la gara di mucca. Siamo a... la gara di mucca. Siamo a... la gara di mucca. ragazzi. La gara dei maiali. Con le caprette. Potete vedere un sacco di caprette. Ecco. C'è la capretta grigia. La capretta bianca. La capretta bianca e nera. La capretta caffelatte. latte. La capretta caffelatte e nera. La capretta bianca e marrone. Ah no, questa l'avevo già vista. Le caprette. Un sacco di caprette grigie. Queste sono tutte imparentate per voi. Eccole. Ecco. Qua dentro c'è una puzza che non potete immaginare. Cioè nessuno, se non è con una capra, può immaginare quanto puzza una capra. Credo che effettivamente una capra non si possa tenere a casa. Ecco. Questa è la... Stai recestando? Siamo usciti dalla fiera. Bello. Molto bello. Sono le quattro. Siamo stati tra quattro ore. Abbiamo mangiato, abbiamo giocato tutte quelle cose stupide dove tiri gli anelli, tiri le palline, tiri spruzzi con l'acqua, spari con i palloncini fucili, eccetera. Non abbiamo vinto niente. E' normale. Secondo me quelli che girano con i pupazzoni, che poi la tua fidanzata ti dice, ah guarda quello gli ha vinto il Minios gigante o... secondo me lavorano per loro. Cioè loro pigliano questa gente, gli fanno girare con i pupazzoni giganti, quindi tu vedi i pupazzoni giganti e dici, ah allora è possibile vincere il gioco, ma in realtà è assolutamente impossibile vincere. Questa è la mia teoria. Poi se qualcuno di voi ha vinto nella sua vita, me lo faccia sapere perché sarei felice di avere una tua opinione. Ora stiamo tornando a casa, sarà circa un'oretta, non c'è tantissimo traffico, c'è anche una brutta giornata, è venuto abbastanza brutto, e... arrivaremo a casa per le 5 penso, poi andiamo a cena con un amico. E' stata una bella giornata, una bella domenica, lunga, abbiamo fatto un sacco di cose, non vi ho fatto vedere cosa ho comprato alla sales di Joe Jeans, ma quando arrivo a casa se ho ancora energia vi faccio vedere. Quindi se c'è ancora qualcosa dopo questo video sarà quello, se invece non c'è niente vi terrò col dubbio e vi saluto. Ciao! Ciao!